Andrea Stocchiero Foxiv. Sì, grazie. Grazie per... pronto mi sentite? Sì, sì, ora sì. Grazie per questa occasione, ringrazio molto Rinascimento Green, Rinascimento Verde, per il lavoro fatto e per il coinvolgimento di questa rete che è stata definita Sghemba. Io direi una rete giusta, nel senso che effettivamente la scommessa è quella di uscire ognuno dalla propria bolla, dai propri soliti riferimenti e di condividere i principi che sono stati prima indicati. Quindi noi come Federazione degli Organismi Cristiani e Volontariato Internazionale abbiamo partecipato volentieri per quello che potevamo e convinti che siamo di fronte a una svolta di carattere epocale e quindi bisogna rimboccarsi le maniche e capire profondamente che quella che stiamo vivendo è una crisi contemporaneamente ambientale e sociale. Su questa indicazione che ci viene anche da Papa Francesco, della Laudato Si, abbiamo partecipato volentieri e ognuno porta le sue sensibilità. La nostra sensibilità si riscontra in particolare nel progetto Faro numero 2 che è quello sul cambiamento dei modelli di produzione e di consumo perché questo significa cambiare dei modelli che hanno delle dimensioni internazionali rilevanti. Cioè è inutile cambiare noi qui al nostro interno in un'ottica provinciale italiana quando il mondo va da tutt'altra parte e quando soprattutto c'è una parte del mondo come il sud impoverito dove si trasferiscono tutti i nostri modelli produttivi che continuano a sussistere per sfruttare le risorse naturali. Tutti i fenomeni di accaporramento della terra, dell'acqua, delle risorse naturali a danno delle comunità vulnerabili locali ci preoccupano moltissimo a partire da tutto quello che sta succedendo in Amazzonia e quindi noi ci stiamo nel momento in cui il cambiamento dei modelli deve riguardare le nostre imprese, le imprese europee, nelle loro filiere internazionali e quindi questi progetti si connettono ad altre iniziative di riforma politica. Voglio ricordare qui il processo che si è avviato per una nuova direttiva sulla dovuta diligenza delle imprese a livello internazionale e la necessità che si investa sempre di più nella cooperazione internazionale per accompagnare le comunità vulnerabili nelle loro lotte per i beni comuni e per adottare modelli di produzione come quello dell'agroecologia che consente alle comunità vulnerabili di autosostenersi, di avere autonomia e indipendenza, la sovranità alimentare e quindi di essere veramente protagonisti nel mondo di un nuovo modello, un nuovo modello che ha radici culturali da sostenere, da portare avanti con la cooperazione di tutti. e quindi il nostro spirito è che naturalmente il governo queste sensibilità le accolga e consenta anche al progetto lustro di collaborare per un cambiamento delle politiche che sia concreto sul territorio. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie a tutti.